...un mio comunque dalle prime lastre alla faccia risulta una lesione all'osso sacro che non so... ...poi vi chiamo con me Ieri ad Arbore per discutere della crisi bossa è portato anche il trotta sapete che il primo pesce si fa fosforo del resto mica... del resto mica potevo lasciarlo da sola a casa con rischio che si ingoiava tutti i gormiti poi abbiamo la Carfagna a giugno si sposa potrebbe essere l'ultima occasione per vedere Berlusconi investe di testimoni anziché di imputato